che consuma chissà quanto, copriamo attualmente il lungomare di Napoli, dal ciclo tennis alla stazione geologica, il piazzale di Piazza Garibaldi, più frequentato, 250 connessioni in media giorno, il PAN, il museo che sta, non mi ricordo la sigla precisa, considerate che è gratuito e non si paga, andateci, tra poco con l'asterisco si sta installando attualmente a Piazza Municipio e Mollo Beverello e poi tra un paio di mesi in tutte le 12 biblioteche comunali, una per ogni municipalità. Visto che questo progetto è andato bene, ha funzionato e c'erano sei aziende che hanno partecipato, abbiamo detto, scusa facciamo una cosa, nel 2013-2014 facciamo un altro bando che stiamo scrivendo, sempre sponsorizzazione, e diciamo che noi vogliamo coprire tutta la linea 1 della metropolitana di Napoli, sia le banchine, sia le tratte sotterranee, compresa Piazza Garibaldi, che tra poco, come sapete, si aprirà, linea 6, funicolari e parchi e giardini, in realtà la linea 1, la linea 6, il bando copre sia wifi che 3G, abbiamo già scritto il bando, siamo pronti, è un po' più difficile, perché visto che considerate che la prima volta c'è stato il successo della gara, abbiamo detto, questa volta, oltre a mettere i banner, ci pagate pure, visto cosa è Napoli, sembra il fatto che si spara a Milano, quindi in realtà chi si aggiudica linea 1 e linea 6, ce le tratte, in realtà pagherà addirittura il comune, però qui è stato il bando, quindi diciamo che per il 2013-2014 sicuramente dovremmo avere sicuro linea 1, a meno di qualcosa, a fine piazza Garibaldi, che dovrebbe aprire verso fine anno, anzi apre sicuramente verso fine anno, e la linea 6, in realtà abbiamo fatto anche qualche sperimentazione con ANM per quanto riguarda i bus R2, metterci un access point sopra, e per quanto riguarda la gestione wifi sulle 400 pensiline ANM elettrificate, in realtà non sappiamo se andiamo avanti sulla quella sulla sperimentazione sui bus, però in realtà è un'idea che volevo portare avanti, questo è il portale che abbiamo fatto, è il portale UGMS gratuito, UGMS fatto internamente in PHP, con tutte le varie funzioni, questo è quello che voi vedete quando vi collegate con il wifi, questi sono i punti già attivi, questa è la simulazione di quello che accade su uno smartphone quando vi collegate, con i punti attivi della zona, e ho finito, quindi grazie a tutti, quella è il mio account twitter, se mi seguite guadagno qualche altro follower, vi ringrazio a tutti. Allora, mamma mia, ok, non ci riusciamo mai a regolare sul volume, se avete delle domande non lo so, io mi permetto diciamo di fare questa preemption, avrei io una domanda? Sì, mi dispiace, no, abbiamo, state mettendo in piedi delle infrastrutture per appunto ricavare questi dati, per capire effettivamente, per accogliere queste informazioni, quanto state lavorando per rendere queste informazioni efficaci? Faccio un esempio, il patrimonio immobiliare sconfinato del Comune di Napoli, che attività ci sono adesso per metterlo in piedi? Si parla di albergo dei poveri da molto tempo, c'è stata anche una manifestazione un po' di tempo fa, effettivamente con le risorse che appunto sappiamo tutti sono limitate, il Comune di Napoli cosa può fare, cosa sta facendo, cosa farà? Lo dico perché la nostra associazione da anni, per esempio, ma ci sono tante altre associazioni, noi cerchiamo una sede che non siamo ancora riusciti ad ottenere, c'è un modo di riuscire ad arrivare ad una conclusione, lo dico perché interessa di tante altre persone che mi hanno fatto la stessa domanda. Non è molto informatica come raccomento, però per dire, rispondo, rispondo, in realtà è proprio questo, che il patrimonio immobiliare da poco si inizia a gestire, in realtà dietro ci sono molti problemi, faccio un esempio, noi abbiamo un cinema che abbiamo visto che è di nostra proprietà, per esempio, per dirvi perché, molti dicono, ma sta un cinema famoso che sta in zona Piazza Calotesto, faccio questo esempio, poi dopo mi aggancio, molti dicono ma sta questo cinema abbandonato da parecchi anni perché non lo usate, in realtà, esatto, esatto, bravo, in realtà, perché non lo ha dato in fitta a un supermercato, in realtà quel cinema è stato dato in donazione da un nobile a suo tempo per scopi culturali, quindi vuol dire che una pubblica amministrazione ha ricevuto in dono per le filialità culturali, quindi c'è un cinema che ha una filialità culturale, va bene, non si può fare destinazione di cambio d'uso in maniera rapida, per cui quel cinema sta lì, o ci sta qualcuno che dice voglio metterci una biblioteca, ma non è che si guadagnano le biblioteche, ovviamente, oppure uno potrebbe dire ci metta una palestra perché la palestra viene la corte dei conti il giorno dopo e dice, oppure vengono gli eredi della nobile, quindi vuol dire, molte volte alcuni immobili hanno detto una storia molto complessa, per quanto riguarda l'albergo dei poveri ci sono dei progetti che stanno portando avanti, in realtà ci sono anche molte stanze già disponibili, però questa è una domanda più dell'assessore al patrimonio che mi sa rispondere, in realtà ci sono anche dei bandi che si stanno preparando affinché le associazioni possano partecipare, qualcuno è stato anche assegnato, per esempio, qualche tempo fa, per cui dovrebbero uscire, non so dire più una data, però dovrebbero uscire dei bandi di assegnazione da alcuni immobili proprietari di Napoli per associazioni che hanno una certa finalità, non so dirti i tempi quali sono, il problema principale è capire se immobile per immobile qual è la sua finalità d'uso, perché si può scoprire che semmai viene dato quell'immobile all'associazione informatica, faccio un esempio, ma in realtà la vecchietta che fortunatamente ci aveva regalato, diceva no, ti può fare tutt'anno una macellaria, e quindi o trovo un macellaria che non vuole fare, faccio un esempio, infatti, quindi a volte la complicanza, il problema principale non è tanto quello di volerle le cose, io sono informatico, a volte scopro che dietro c'è un mondo realmente complesso, scopri per esempio che ci sia una villa famosa che è abusiva, che è salata a 200 anni abusiva, quindi non è che si può assegnare, bisogna prima cercare di riparare il problema che è stato a 20 anni, però su questo si sta ragionando, per quanto riguarda le poveri ci sono varie idee, non sono da fare, o mettere qualche ufficio comunale, perché abbiamo fitti passivi, abbiamo dei fitti dove paghiamo, avendo sistema minimo immobile, ovviamente è un'ottima occasione questa di confronto, perché cittadini istituzioni, diciamo, è importante che anche poi le persone che sono qui oggi siano in grado di parlare con una persona che si occupa di questo, ecco. C'era un'altra domanda? Domanda sul wifi cittadino, come funziona l'autenticazione tramite Squill? Questa è una bella, perché con la nuova legge in realtà non dovrebbe esserci più l'autenticazione, come funziona? Funziona con l'SMS, cioè il cittadino trova Napoli Cloud Seed come Seed sul cellulare, compare la cap di porta, c'è la pagina principale, mette un utente l'email, il cellulare, riceve un SMS, nell'SMS c'è la password, quindi funziona con tutti gli altri sistemi. In realtà dite perché non vi sei considerato che con il decreto Salva Italia, una cosa del genere, perché non togliete l'autenticazione, vi sei considerata che non sarebbe più necessaria? Il problema è questo, che il servizio wifi non lo può dare una pubblica amministrazione, cioè in realtà il servizio wifi è vietato che una pubblica amministrazione fornisca direttamente il wifi, lo deve fare tramite un provider. Quindi questa decisione di abbandonare l'autenticazione non è del comune, ma è dell'azienda che fornisce il servizio a comune, di togliere questa autenticazione. Siccome in Italia ovviamente ci sta la polizia postale che dice se succede qualcosa, l'IP è tuo e me la venga a prendere con te. L'azienda che fornisce il sistema wifi dice, ma io con tutto il problema c'è una fibra di sotto, allora l'autenticazione io e te l'arresto, fin quando qualcuno mi dice che se succede qualcosa l'IP non è mio e vado. Quindi in realtà non è un comune che può decidere di togliere l'autenticazione. purtroppo l'azienda non può sempre imporre togliere l'autenticazione, è l'azienda che fornisce il wifi che dovrebbe farlo, ma pensa che non lo farà. Immagino che resterà sempre l'autenticazione con l'SMS. Una cosa che abbiamo fatto è che una volta che ti autentichi e ti autentichi sempre con lo stesso cellulare, non ti richiedi ogni volta un ente password. Una volta fatto l'autenticazione con quel MAC address accedi sempre. Ma è del SID, del wifi? Io parlo bene napoletano, un po' male l'italiano, napoli cloud city, napoli cloud city, è il SID che si trova domande per Felice Balsamo? Qualcuno ha altre domande? Felice Balsamo che ogni anno viene, ci volta il contributo del comune di Napoli. Ringraziamo lui, ovviamente il comune che nella sua persona, diciamo, mostra il suo interesse verso la nostra manifestazione. Bene, allora, vogliamo fare questa pausa? Dettagli logistici. Abbiamo una convenzione con una pizzeria qui vicino, la pizzeria Paradise, se avete la spilletta, se non ce l'avete registrata, fatevela dare, pizza più bibita 4 euro, pizza margherita. Esatto, diciamo, per una pizza poco articolata 4 euro, pizza più bibita qualsiasi, invece per pizza è un po' più, diciamo, se vi volete sfondare, siamo sui 6 euro. Va bene, dovete mostrare la spilletta che vi è stata data all'ingresso, come ha detto Gianfilippo. Noi siamo qui alle 3, speriamo che ci siate anche voi. Va bene, a più tardi.